Una delegazione di studenti del Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università Federico II in visita all'impianto di depurazione di Punta Gradelle e alla sede tecnica di Gori a Scafati. Accompagnati da Medeo Lancia, docente ordinario di impianti chimici, gli universitari hanno potuto constatare l'efficienza dello stabilimento di Punta Gradelle a Vicoequenze, ripercorrendo il ciclo che i reflui fognari attraversano per essere restituiti e depurati in ambiente. Io ritengo fondamentale dare un aspetto pratico ai nostri studenti della Ingegneria Chimica, il corso di studio appunto Ingegneria Chimica. L'insegnamento che noi diamo ai nostri studenti è proprio impianti di trattamento degli effluenti inquinanti. Quindi questa giornata per me è stata una giornata, e ritengo anche per gli studenti, è stata una giornata estremamente importante perché abbiamo visto delle realtà industriali, impianti di trattamento, dei liquami, che a mio giudizio sono veramente un fiore all'occhiello per la nostra regione. L'impianto, che a breve sarà assegnato alla gestione della Gori, è al servizio dei comuni di Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vicoequenze, che fanno confluire lì i propri scarichi attraverso due gallerie che conducono fino allo stabilimento. Un volume annuo di oltre 6 milioni di metri cubi. Le acque vengono trattate mediante un processo biologico il cui comparto è composto da quattro reattori di tipo biologico e rappresenta il cuore dell'impianto. 40 membrane di ultrafiltrazione a fibra cava costituiscono una barriera in grado di trattenere i solidi sospesi di dimensioni infinitesimali. Attiva da tempo anche la grigliatura grossolana e fine per bloccare il materiale solido proveniente dai comuni della costiera. Quasi 16 quintali di materiale al giorno che prima finivano in mare. Al termine della visita, alla delegazione è stata consegnata una bottiglia d'acqua prelevata dalla vasca post depurazione. L'acqua sarà esaminata dagli studenti per verificare l'esito del trattamento depurativo. Una cosa estremamente importante che ho potuto capire che i miei giovani studenti hanno acquisito oggi l'importanza del bene acqua. L'acqua è una risorsa eccezionale che oggi diventa sempre più o meno reperibile. Bisogna fare tanta tanta attenzione a recuperarla e a riutilizzarla quanto più è possibile. Seconda tappa della visita poi la sede tecnica di Goria Scafati che ospita oltre alla struttura operativa anche l'impianto di depurazione al servizio dei comuni della zona. Una seduta con i vertici gori per la descrizione delle complesse attività del telecontrollo e della gestione di tutti i nodi della rete idrica e di quella fognaria prima di iniziare un tour nelle strutture che compongono l'impianto di Scafati. Finalmente abbiamo visto delle cose dal vivo e non, come ha detto lei, sui libri. abbiamo avuto modo di testare dal vivo questi impianti che è l'impianto di trattamento dell'acqua che abbiamo visto appunto a Gadelle e anche questo qua della Gori a Scafati. È stata un'esperienza molto formativa, molto interessante e spero ce ne siano anche altre da fare per visitare altri impianti.